Ciao a tutti ragazzi siamo qua ancora su questo gioco lagga un po' però vabbè abbiamo le nostre giostre facciamo pagare troppo poco guardate ora se non sale guardate abbasso il prezzo costa troppo questa giostra raga ora si sta per unireale con l'accanto Blocks Go vediamo qua se dicono qualcosa eh no non voglio non sale mettiamo ancora 10 mi bastano 10 dollari comunque raga ora si sta per unireale no dai ora basta Gabby ora Ale che non è il primo guardate già qualcuno è salito? non è il tuo giostro? si è tutto il mio parco anche te lo stai per fare? appena ti usci però fai il nuovo New Game però capito? devi andare su New Game non è che ti fa uscire che già abbiamo restato accanto no io c'era un altro io qua ho Franci Youtuber cioè è grosso cos'è che devo fare New Game? New Game si New Game questo? no start a New Game enter devi esegui il tutorial che è meglio se no fai schifo il tutorial decidi te comunque ecco siamo su Roblox d'Orsa scherzo ragazzi vedo tante persone andare lì su quella giostra ora che ho abbassato il prezzo ma anche quella eh raga c'è la coda comunque allora raga ve lo giuro stiamo guadagnando molto ora che ho abbassato i prezzi dobbiamo abbassare i prezzi e farne tante però andiamo su Ride che comunque cioè se facciamo l'Observation Roller Castle come fai? da montare o da non a montare è grosso vedi se enter build mode farce devi fare no devi cliccare aspetta devi cliccare qua e devi fare qua 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 e metti l'entrata e non hai l'uscita però aspetta mi ha venuto la mia panna poi te vai qua ancora qua e si prendi la panna è bulla arrivo e fai l'uscita e poi vabbè fai faccia vai con questa dove è l'uscita? pensate questa no aspetta divina ecco bulla dove la vuoi mettere l'uscita? qua c'è l'uscita devi fare con queste tre parti la strada e poi con qui quella per l'entrata e poi tranquillo si e poi dopo l'account se vuoi tenertelo tieni raga stiamo andando troppo bene cioè che secondo me cioè io vedete qua un po' qua il popcorn stiamo facendo un bel po' appena faremo il primo rollercoaster si che secondo me la tengo io perché è la mia la mia è un po' si ma è strano che comunque non è il gaysstop è la schiena sta giocando Ale da quell'account non puoi devi aspettare mezz'oretta che Ale Ale attento se ti si toglie da Roblox potrebbe essere Gabri raga guardate 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 ora siamo qua cioè come sto mi sentite mia mamma prova come lo sei Gabri dai ma io non l'ho data Ale me l'ha chiesto sono stato io dai non va bene perché volevo non posso mettiamo tutto reset raga perché è troppo bello comunque reset allora vediamo oh cioè siamo in 40 persone su questo da quando abbiamo abbassato i prezzi ci vanno molte più persone e ora andiamo su ride perché perché tipo ero meno però troppo però la costa aspettiamo qua raga intanto facciamoci qualche giro ride aspettiamo che arriviamo a 7000 tanto manca poco ma anche noi possiamo ma anche noi possiamo lo dobbiamo pulire però non puliamo troppo cioè secondo me si può fare qualcosa c'è terra lo ok no ok no non lo so cioè ok qua così proviamo guardate stiamo per sprecare un po' che qua di su un po' che c'è raga mi sto spendendo molto ma così almeno c'è non entra meno quindi dovrebbero entrare più intero mi sembra un po' tipo un blocce pensa che sia ale quel blocce perchè il mio canto io l'ho dato comunque sappiate che c'è sempre ale comunque anche se ora non si vede però sentiamo un albero cioè una roccia tipo qua con un no questo con un corderello con un corderello all'inizio è già molto meglio c'è un botto di gente che se ne sta andando non so il perché va vabbè tardi nel gioco cominciano allora all time west count vabbè non ho capito però lasciamo così com'è c'è la luna blu come i puffi blu vabbè possiamo stare ecco sta salendo qualcuno salgono vicino a me posso salire vicino a te fino è questo un po' un però no questo qua è quello che vogliono più persone cioè più persone vogliono quello vuol dire appena riusciamo noi prendiamo un altro perché tanto giostre hanno più cose diverse cioè più cose tante uguali molto in una parte comunque quello lì non mi ha fatto guadagnare tantissimo però mi ha fatto guadagnare siamo a money un po' e questo qua di questo ok questo è quello che ne ha di più ok alessine è andato peccato perché noi stavamo incominciando ad avere un po' blocks go infatti due tre però togliamoci la chat ecco abbiamo scambi in giro secondo secondo me vogliono tante di queste tanti roller costo guardate guardate ora ho messo le protezioni qualcuno può fare da lì venire ma comunque è tipo quella laggia guardate quanto costo dovremo prendere tutta questa per ora ne abbiamo un pezzettino comunque non male comunque ora pagheranno una di più se continua ad andarci gente se costa una di più si ma le testing e non in testing mi spiace ho dovuto mettere in testing ok va bene open si va bene lasciamo tutto qua raga perché comunque i video di roblox sono quelli che mi durano di più raga i video di roblox sono quelli che mi durano di più alla fine perché e roblox è quello un po' che mi chiede un pochettino di più tempo però si è comunque 12 minuti sono pochi però vabbè e qua posso mettere il closet ma non lo metteremo mai perché comunque ci vanno cioè no ho detto che non mi fa guadagnare ma mi fa guadagnare anche questo quella lì è un po' di meno e questa qua è quella di più guardate qua di like è vero neanche io posso no non posso scrivere niente andatevi a vedere la mia serie di minecraft perché devo cominciare a far delle cose lo so che ho detto in quell'episodio incomincevamo le storiazioni ma non ho potuto nell'episodio 3 perché dobbiamo iniziare una zona che non vi posso spoilerare io meglio che ve la andate a vedere e conviene veramente tanto andarvele a vedere perché è una serie che voglio fare da molto comunque che mi piace giocare a minecraft ed è da tanto che vorrei fare una serie di minecraft per quello che ragazzi spero che la faremo perché veramente vediamo comunque vedete non c'è blocks go perché se ne continua a andare comunque stiamo guadagnando manca poco per il primo rollercoaster così questo comunque allora guardate io tipo lo farò qua qua e intanto vi dico una cosa mentre guardate la mia schiena allora è brutta la mia schiena lo so però è una tra le vecchie che davano prima comunque allora per dirvi che io vorrò portare minecraft per tanto tempo ci fermeremo all'episodio 100 o qualcosa ci fermeremo dopo aver sconfitto l'ender dragon continueremo poi ma su un'altra cosa ci saranno degli episodi che farò io con un mondo già che ho costruito un po' una città un cartone tipo una cosa che comunque può piacere una cosa che non può piacere però possiamo provare perché con tutti i vostri contributi che continuate a lasciare like e vi iscrivete può essere veramente un bel traguardo già hai 50 iscritti ci sarà lo speciale o hai 30 non mi ricordo comunque a uno di questi ci sarà lo speciale non vedo l'ora di arrivare ai 100 iscritti che lì ci sarà veramente uno speciale importante dove cercherò molti giochi ci saranno molti tagli perché è il cambio del gioco sarà molto bello sarà un video però lo spero che anche voi lo guardiate e ora possiamo andare un po' in giro dopo questa cosa che vi ho detto perché io sto continuando a comunque giocare già per voi comunque anche se avrei altri impegnini però vabbè guardate comunque fa soldi questa giostra se sì io la metterei qua togliamo e appena vediamo se ci va qualcuno massimo 100 vediamo se ci sale qualcuno io l'apprecipo se non vedo che non ci sale più nessuno è un problema infatti non ci sta provando neanche più nessuno a venire infatti forse è meglio no no non vogliono più venire perché costa troppo sono vorrebbero pagare vediamo se non per 86 vogliono per 86 lo fanno io non ci credo io li lascio io li lascio fare quello che vogliono appena finisce questo giro dovrei guadagnare tanto perché oh quanti in fila a quel costo la non so se gli conviene però guardate quanto pagano 86 euro veramente tanto veramente tanto ma veramente tanto 2 infatti se ne sono andati tutti facciamoli pagare 11 dai sono buono infatti era 11 10 no 11 si ho alzato un pochettino il prezzo perché devo alzare aspettiamo i 7000 che così ce la facciamo e no in verità anche ora no costa 1700 cioè 6000 roller cost infatti più e no questo qua è più cioè poi so io mettere no 74 ancora una persona che sale su una giostra che vuole ecco no ce l'hanno già c'è già guardate già ha fatto tutto è già qua pronta ovviamente e già da solo da solo costa 14 però penso che ovviamente qua 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 e qua vediamo se ci viene qualche persona se no mettiamo verso di qua noi facciamone vediamo qual è che fa di più qual è che tengono a usare perché tipo già qua è un problema sì perché io dovrei cioè fare così vuol dire facciamo così e ta 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 e ta mettiamo part facciamo ancora questo qua così dovrebbe già andare e ora prendiamola oh beh c'è qualcuno diciamo guardate tipo qualcuno che sta uscendo decide no nessuno ci sta andando se qualcuno deve sapere però che eh se non la sanno infatti vediamo qualcuno se viene qua è ottimo è ottimo no infatti allora il mio ragionamento è andato un po' male allora togliamo questi no qualcuno ci sta mandando vuol dire guardate cioè guardate cioè guardate così dovrebbe già andare speriamo o io tengo così poi vediamo ecco ho già qualcuno che ci va sì comunque le persone ci vanno ci devono andare vedete vedete c'è peccato super mega belle che ti fanno super emozionato cioè li fermava ancora poi dopo no c'è qualcuno che sta aspettando guardate appagano 14 ma va bene poi da qua escono va benissimo ragazzi ora andiamo davanti alla nostra nuova giostra che è appena partita appena va bene mettiamoci dritti ragazzi per questo video è tutto ciao da franci